Gentili telespettatori, buona giornata. Questa è la seconda volta che il Presidente del Consiglio rimprovera i fannulloni di centrodestra. I fannulloni di centrodestra? Ma cosa dici? La Meloni ha ministri e sottosegretari, dice serve un'assidua presenza ai lavori in aula, come dire, serve che voi andiate a lavorare, a lavorare, perché per quei soldi che prendete dovreste essere lì tutti i giorni dalle otto del mattino alle sei del pomeriggio, con un'ora di pausa pranzo. E caspita, con 13-14 mila euro al mese questi manco mi vanno a lavorare. E quindi la Meloni ancora una volta, perché già la seconda volta, la prima volta lo diceva i politici in generale, questa volta anche ministri e sottosegretari serve una presenza assidua ai lavori dell'aula. Cioè dovete andare in aula. Non è ma io sono impegnato al ministero. Il ministero ci sarà un vice ministro. Eh ma anche lui deve andare a votare. Allora mettete il vice del vice. Se non c'è il ministro e non c'è il vice ministro o sottosegretario, ci sarà una terza persona, il direttore generale del ministero, che gli dite guarda devo andare un paio d'ore a votare. Tu sei in queste due ore, sei responsabile del ministero. È o no? È più facile dire ma non ci vado in aula, dico che sono impegnato al ministero. E così i ministri e sottosegretari se ne strafregano. Oltre ai politici, vi ricordate che il governo era andato sotto sulla legge economica, la più importante che si fa ogni anno, c'era gente, uno era in bagno, uno era in posta, l'altro ha perso il treno, l'altro ha bucato la gomma, l'altro era la cassa del supermercato e andava lenta la cassiera. Ne avevano dette di balle di tutti i colori. E così arriva la lettera ai componenti del governo. L'obiettivo è evitare nuovi incidenti. Adesso ci sarà un report con scritto presente, assente, presente, assente, assente. Un report sulle presenze a Camera e Senato. Stretta sulle assenze, il governo si muove. Il ministro dei rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha inviato quello che è formalmente più di un appello a tutti i ministri e sottosegretari. Per rimarcare come sia fondamentale un assiduo puntuale qualificata per certecipazione. Gli sta dicendo andate a lavorare. Questo sta dicendo. Andate a lavorare, non fate i fannulloni. Siete dei privilegiati. Entrate al ristorante e vi chiamano onorevoli. Nelle trasmissioni vi invitano. Onorevole di qui, onore di che? Onore a che cosa? A che cosa? Che non andate a lavorare? Ma vergognatevi. E poi la lettera agli altri membri del governo è stata concordata con la presidenza del Consiglio e anticipata da una comunicazione del capo gabinetto di Ciriani, Massimiliano Luca, con l'accento sulla A. Si tratta di regole con cui Ciriani invita i ministri e i sottosegretari a seguire i provvedimenti di propria competenza. Il capo di gabinetto aveva già anticipato i contenuti della missiva. La necessità di fornire un prospetto settimanale il più completo possibile sulla presenza dei rappresentanti del governo nelle commissioni e nelle aule parlamentari in relazione alla discussione dei provvedimenti, degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo di rispettiva competenza. Carameloni, basterebbe dire se non andate a lavorare io non vi ricandido più. Altro che ministro e sottosegretario, ma neanche il sparlamentare vi faccio più fare. Questo dovrebbe dire la Meloni. Andate a lavorare, non mi fate arrabbiare perché sennò avete finito di fare i politici. Onorate, onorevoli, onorate quei 13 mila euro che vi danno, quei 500 euro al giorno compreso sabato e domenica, tutte le feste comandate, perché questi prendono più o meno 450 tutti i giorni dell'anno. C'è gente che lavora per 2 euro all'ora. C'è gente che viene pagata 360 euro al mese e voi prendete 15 mila per non andare a lavorare. Carameloni, sii più chiara. Io adesso mi sto segnando i nomi. Chi non va a lavorare ha finito con me, ha chiuso con me. E come fanno i capi dell'azienda? Se tu non vai a lavorare ti licenziano. Non ti posso licenziare perché i deputati non possono essere licenziati. O se ne vanno ma non possono essere licenziati. Possono andarsene, andare nel gruppo misto e stanno lì senza che nessuno gli rompa le scatole per 4 anni e mezzo e continuino a prendere lo stipendio. Dire vabbè, se non andate a lavorare, tranquilli, io poi non vi ricandido più. Così la Meloni avrà un report mensile su quelli che vanno e quelli che non vanno a lavorare. E poi il ministro tocca anche la questione degli emendamenti presentati dai colleghi, sollecitandoli al rispetto dei tempi, in modo da permettere al governo le valutazioni del caso e il vaglio di ammissibilità nelle tempistiche giuste. Dovranno passare da Ciriani anche gli emendamenti presentati per via parlamentare. Una strettoia imposta e comunicata dalla Premier Meloni durante il Consiglio dei Ministri, proprio per dare un vaglio politico alle iniziative ed evitare equivoci sull'importanza politica da attribuire loro. Quindi, cari politici, pensavate di essere eletti perché guardate che tanti neanche sono a Roma. C'è gente che vive a 500-800 km da Roma e continua a vivere lì. Mi hanno eletto, continuo a fare il lavoro che facevo prima, in più mi prendo 15.000 euro per 5 anni, ogni tanto vado in Parlamento, prendo l'aereo col troll e sto lì due giorni a votare e poi me ne torno a casa mia. Quindi molti non si sono neanche presi la briga di cercarsi un appartamento a Roma. Me ne sto a casa mia, ogni tanto quando è proprio necessario, quando proprio è necessario, vado a votare. Così c'è gente che ha assenze del 60%, 70%, c'è gente che ha assenze anche del 95-99%. Se voi andate sul sito della Camera dei deputati del Senato, non mi ricordo qual è l'indirizzo, l'ho visto proprio l'altro giorno, ci sono le presenze di tutti i parlamentari. Quante volte è andato, quante volte non è andato e la percentuale di presenza di tutti i parlamentari, di tutti. Ne scoprirete delle belle su quelli che non vanno a lavorare, ne scoprirete delle belle. Provate ad andare a vedere e vi scoprirete chi è che non va principalmente a lavorare. A parte questo, il report della Meloni non è neanche necessario, ci sono già i dati di Camera e Senato, può andare a consultare quelli e vedere quelli che non vanno a lavorare. Come vi dicevo, molti tranquillamente se ne stanno a casa loro e ogni tanto vanno a Roma a schiacciare due pulsanti e tornano a casa. Non c'è quell'impegno che uno si immagina, non c'è. Io se fossi deputato prenderei casa a Roma e tutti i giorni andrei in Parlamento a fare quello che c'è da fare, parteciperei a tutte le discussioni. È un privilegio poter servire la propria nazione, prendersi i soldi e stare a casa è veramente vergognoso, vergognoso. Grazie a tutti e arrivederci a presto.